Un finto centro di formazione con base in provincia di Reggio Calabria e sede in altre parti d'Italia che rilasciava falsi diplomi che poi non venivano riconosciuti dalle istituzioni. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Comando Provinciale e gli agenti della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone emessa dal GIP su richiesta della Procura di Reggio. Nell'operazione denominata Lucignolo, tre donne di Condufori, madre e due figlie, sono state portate in carcere da altri cinque indagati residenti nella Locri da Roma, Trani, Terracini e Rò. Il GIP ha concesso il beneficio degli arresti domiciliari, mentre per altri due, uno di Locri e uno di Ribera in provincia di Agrigento, è stato disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli inquirenti avrebbero fatto luce su una sorta di diplomificio. Gli accertamenti avrebbero consentito alla Procura di delineare l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminale dietro la parvenza di un finto centro di formazione internazionale falsamente riconosciuto e convenzionato con enti pubblici ed università italiane e straniere. Le indagini proseguono a tutto campo e interesseranno anche altre città dell'isola come seguito di quella che può definirsi veramente una maxitruffa scoperta a Reggio Calabria e che interessa anche la Sicilia.